salve a tutti signori io sono lorenzo e questo mio canale esperton e benvenuti bene oggi voglio parlarvi del collegamento che c'è la nostra auto elettrica in questo caso una twingo elettrica e la nostra colonnina di ricarica il nostro distributore di ricarica per portare la corrente dalla colonnina alla nostra auto abbiamo bisogno di un buon cavo e in questo caso io vi faccio vedere un cavo che supporta fino a 22 kilowatt un cavo lungo 5 metri ed un cavo che è anche impermeabile perché anche se sta piovendo noi possiamo venire qui e tranquillamente ricaricarlo il nostro cavo è questo adesso lo faccio vedere nella confezione con cui mi è arrivato vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo potete acquistarlo tranquillamente e lo ordinate così mi aiutate anche a me a crescere e anche a supportare questo canale allora arrivo in questa scatola così io la apro ha la sua valigetta per portarlo in giro quindi poi potete metterlo nel bagagliaio così facci qua e questa è la mia valigetta una valigetta ben fatta non è tanto ingombrante fa un 30 cm x 30 cm e anche qui sotto è gommata si vede che tutta la gommatura in modo che non scivoli nel bagagliaio andiamo ad aprirlo e a vedere il nostro cavo il cavo si presenta così vedete quindi questi sono cinque metri di cavo fatti qui dentro non ripete supporta 22 kilowatt è molto resistente perché qui può sopportare un peso fino a 20 quintali quindi due tonnellate di peso un'auto tranquillamente al supporto anche se lo lasciamo sotto partiamo siamo dimenticati il cavo per terra non si distrugge possiamo tranquillamente passarci sopra dopo evitiamo perché meglio così abbiamo dei cavi di spessore da 5 mm quadrati e comunque qui come vedete adesso vedete qui abbiamo la guarnizione la protezione quando abbiamo finito di caricare li chiudiamo in modo che non vada dello sporco è un cavo universale per tutte le colonine ed eccoci qui apriamo lo sportellino della nostra twingo così poi questo qui e andiamo a inserire l'adattatore del nostro cavo qui è chiuso bene con un bel vedete come è fatto con un velcro io tolgo e lo inserisco qua e mi dà la spia che si è acceso quindi il cavo universale e lì è bloccato poi andiamo a metterlo nella colonina dall'altra parte e così andrà in carica bene adesso vedete che lui non si toglie perché è bloccato dalle chiavi adesso devo andare a aprire l'auto e dopo posso sbloccarlo abbiamo finito la nostra ricarica quindi adesso vado a staccare il cavo eccoci qua chiudo lo sportellino ed eccoci qua questo è il nostro cavo che adesso io ho già riavvolto che comunque potete riavvolgere dopo lo chiudete con il velcro che c'è qui va fatto così guardate e va messo qua questo è lo spazio del mio cavo di ricarica veramente eccezionale vado a riporlo nella sua custodia che avevamo aperto prima dentro la custodia troviamo anche uno strazzetto per pulirlo e delle istruzioni per l'uso questo guardate qua il cavo rimesso giù volevo anche ricordarvi che questo cavo comunque è un cavo ignifugo quindi resistente anche al fuoco è il P54 quindi possiamo anche se prende acqua o cosa genere non c'è nessun problema ok e anche secondo me un bello quella scatoletta portatile qui abbiamo la nostra presa adesso io vado a riporlo nel bagagliaio e ce l'ho sempre a disposizione bene signori spero che questo video sia stato utile torno a ripetere metto il link in descrizione se volete acquistarlo così mi aiutate a me a crescere e iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate i tasti notifiche grazie a tutti e arrivederci